Io vorrei dirla in una maniera secca, se facciamo qualche riunione meno dell'Ecofim e qualche riunione in più dei ministri del lavoro e che si occupano del welfare e dei problemi sociali forse non è male, perché attraverso questo meccanismo noi riusciamo in qualche maniera a determinare quell'idea di Europa che guarda i propri popoli e che guarda i problemi dei propri popoli che probabilmente in questi anni un po' è rimasta sullo sfondo e ha provocato le legittime obiezioni e osservazioni alla dimensione europea che noi tutti conosciamo. Quindi noi ci concentreremo in particolare su questi due elementi, l'occupazione giovanile e il tema sociale. Queste sono le due centralità che per quel che riguarda il Ministero del Lavoro abbiamo intenzione, anzi abbiamo già iscritto nel carnet dei temi che il governo italiano fronterà in occasione del semestre.